All'inizio era arrivata la tristezza degli agrumi, malattia in grado di attaccare le piante innestate su specie sensibili come l'arancio amaro. Poi era stata la volta del punterolo rosso, parassita micidiale per molte specie di palme. E infine la temutissima è ormai arcinota, xylella fastidiosa, il batterio killer che ha fatto strage di ulivi dal Salento sino alle porte di Bari. Adesso, a preoccupare gli agricoltori, è arrivato un nuovo parassita che si sta già facendo largo nelle campagne, causando danni stimati al momento in 250 milioni di euro e avvistato sempre più di frequente in Puglia. Si tratta della cimicea asiatica, insetto originario di Cina, Giappone e Taiwan, che con le sue punture è in grado di rovinare i frutti rendendoli inutilizzabili e compromettendo seriamente buona parte del raccolto. La denuncia arriva ancora una volta da Coldiretti, che chiede alla regione di adottare una strategia contro le numerose ed incontenibili malattie delle piante che arrivano in Puglia attraverso le frontiere dell'Unione Europea e che si è improntata su una tempestiva azione di prevenzione per rommettere a repentaglio il patrimonio arboreo e produttivo regionale. In provincia di Bari, nella Bat, ma anche a Lecce, Taranto e Brindi, si fa sapere Coldiretti, le segnalazioni di cimice asiatica si stanno moltiplicando. Un pericolo più che concreto per l'agricoltura, alla luce del fatto che l'insetto prolifica con il deposito delle uova almeno due volte l'anno, con 300-400 esemplari alla volta. L'arrivo di fitopatologie, parassiti e virus provenienti da altri continenti, continua Coldiretti, è favorito dall'intensificarsi degli scambi commerciali attraverso i quali arrivano in Puglia, dove poi trovano un habitat favorevole per via dei cambiamenti climatici. Sotto accusa, conclude Coldiretti, il sistema di controllo dell'Unione Europea, che con frontiere con la Brodo, ha lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Con una politica comunitaria troppo permissiva, che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici, senza che siano applicate le cautele e le quarantene che devono superare i prodotti nazionali quando vengono esportati, la situazione non potrà certo migliorare.